www.feyyaz.tv Vengite ad essere i primi imbragati, da un perchè da sempre, ricordatelo, poi o vedi te. Se non c'è il primo non ci sarà mai, manco l'ultimo eh. E' beati i primi, se l'ultimo si accontenta oppure la rovescia. E' beati i primi, se l'ultimo si accontenta oppure la rovescia, da un'ultimo si accontenta oppure la rovescia, da un'ultimo si accontenta oppure la rovescia. E' beati i primi, se l'ultimo si accontenta oppure la rovescia, da un'ultimo si accontenta oppure la rovescia. E' beati i primi, se l'ultimo si accontenta oppure la rovescia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Togli gli occhiali. Salute il capo. Vai. Grande. Fai così a me. Ok. Bene. Grazie a tutti.